Arte e moda unite nel fine settimana a Viareggino. Sono state le sale della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani ad ospitare sabato pomeriggio una sfilata speciale pensata per promuovere la città. Arte da indossare è stato il defilé ideato appositamente per Viareggio. Borse e accessori realizzati utilizzando i banner delle mostre d'arte storiche, le immagini di Viani e l'esclusivo logo Viareggio Ancor Più Bella. Un progetto voluto dall'amministrazione del Ghingaro a cura di zona franca che gode del patrocinio del comune. La passerella presentata da Deborah Pioli ha visto sfilare rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e delle categorie economiche cittadine. L'idea è nata in modo molto semplice, ci è sembrato naturale trovarsi in questo luogo che è uno scrigno di bellezza e sfilare con la cultura addosso. Siamo donne, siamo creative e la borsa per noi è un oggetto prezioso e quindi abbiamo deciso di promuovere la nostra galleria con questa linea di borse. Alcune di queste borse portano il brand della città? Sì, abbiamo fatto due linee, una dedicata alla galleria che è fatta con materiale di riuso. A fianco abbiamo creato una linea dedicata a Viareggio e quindi per noi è importante promuovere la nostra città e credo che questo sia un piccolo passo in più verso la bellezza.